Amici psiconauti, il momento è finalmente giunto E oggi sono qua insieme a Elisa Ciao Per lo scopriamo dedicato a Psychonauts 2 Allora, siccome è un gioco un po' vecchiotto E fortunatamente ci hanno regalato negli episodi precedenti Per il bene di tutti ci guardiamo questo e poi partiamo Questo è vero Io ho helpo rischio Truman Zanotto Il grande head of the Psychonauts E il padre di Lilly Zanotto Il mio figlio Altho il termo è ancora molto fresco E potrebbe bisogno di fatto check Prima di print C'era un kiss Ma... Ok, sono già iniziato Let me starte a l'inizio I grew up in the circus The Aquato Family Circus A ragtag little caravan of acrobats Run by my parents We were taught all our lives To hate and fear psychics Or fortune tellers As we knew them All because of some old thing Where they cursed the Aquatos To die in water Problem is I am psychic I have been all my life I hid my powers from my family Practicing them in secret Until one fateful night After a show A mysterious stranger handed me a brochure For Whispering Rock Psychic Summer Camp A training facility for psychic kids Operated by the International Espionage Agency We all know as The Psychonauts I ran away from home that night When I got to Whispering Rock I blended in seamlessly with the other campers Superstar Secret Agent Sasha Nine and Mia Vodello Taught me levitation and Psy Blast I learned pyro and telekinesis from Ford Cruller himself He was all over camp Literally all over Due to his ability to teleport He even took up psychic residence in my head Which I could prove to you if you had a piece of bacon Needless to say Things were going great The one little catch was that the head coach of the camp Was stealing campers brains And putting them inside armored death tanks That I guess he was going to use to take over the world or something I went into his mind and found out He just had some issues with his father I mean Who doesn't, right? Now he's okay Not great But, okay Just as Ford Cruller was making me An honorary Psychonaut for all my hard work Word came in that Truman Zanotto Had been kidnapped So my fellow Psychonauts and I Jumped in a jet And set out to find him Our search led us to an abandoned underwater outpost Of the Psychonauts In a dangerous part of the ocean Known as the Rhombus of Ruin We found Truman there Held captive by Dr. Lobato Unlicensed dentist And amateur brain surgeon We freed Grandhead Zanotto But he's got Silerium poisoning And can't tell us what happened We know Lobato wasn't acting alone But he won't tell us who hired him to kidnap Truman Agent 9 has an idea how to get the information Using an elaborate psychic construction Implanted in Lobato's mind It's risky But that's just a way of life when you're a Psychonaut If I don't make it back I really hope you consider publishing my letter And also please consider the sample layout and illustrations I included Well I better get my head in the right place Allora adesso sappiamo tutto quello che c'è da sapere prima di quello che stiamo per giocare E a questo punto Andrei Purtroppo è solo in inglese ma chiaramente i testi sono tutti in italiano Ma da una parte è meglio perché il doppiaggio inglese credo che sia In questo caso specifico molto più convincente di quanto sarà voluto essere in italiano Quindi via 3 giorni ago Truman Zanotto The grand head of the Psychonauts Was kidnapped Yesterday With my help The Psychonauts rescue Truman From the underwater lair of Dr. Lobato But trust me There's no way Lobato is working alone Today We're on a mission Find out who hired Dr. Lobato To kidnap Truman Zanotto My name Is Raz And today Is my first official day on the job The Baldo Everything okay in here Raz? Oh hey Lily Yeah I don't know It's just I've dreamed about working at Psychonauts headquarters all my life I just thought it would be more You know Come on We're going to be late for the morale corral I want to do that job that you put on the schifania With the metal balls And that's how we manage to raise profits 900% this quarter That's right Thank you And that brings us to our next topic Sasha Still have the talking turtle? Maury Sorry I just like the clapping It's now time to give out the award for employee of the year The prize for this year's award Is an all expenses paid tropical vacation I hope it's me The winner of this award May be one of our newest members But he's also one of our most improved Congratulations to Caligosto Lobato Way to go Cal You're going to love this vacation package I'm jealous I've never won anything Open on a vacation I don't have to go on a boat, do I? No, darling All you need to do Is get this vacation request Approved by your supervisor What? Just a formality You just need to get this form signed by your boss My boss? Yes, darling Or you could just tell us who your boss is And we could No Maybe he doesn't want this tropical vacation after all Look back I want it I'm employee of the year Yes, you are, darling Now off you go Get that form signed by your boss The person who hired you The person you work for Ok Hurry up Before I take that vacation myself Rasputin? I'm on him Keep up with him, Raz And he'll lead you straight to his boss He'll be right He'll be right He'll be right He'll be right Be careful, darling Stay close to him, Raz But don't freak him out Remember to act casual I am acting casual What's that? I said I love casual Friday Am I right? Mm-hmm Attention The two is loose So lose him, Raz Uh-oh What is it? I think he suspects something He's taking countermeasures Just remember your basic writing, soldier Right Are you following me? You are following me This was all a trick I'm not employee of the year I'm the greatest dentist of our century All agents The tooth has gone bad Repeat The tooth has gone bad I dialogue I'm not Ispirating Come qui Dell'epoca C'hanno quella Quella genialità Quella simpatia Come tutti i loro prodotti Why are you taking so LAAA I don't think you understand The gravity of the situation Watch out Hey You're not supposed to walk that way My posters Oh 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 No time for small talk, soldier The enemy is on the move But we've got him cornered This way Wait We can't let him shake us Now Before the procedure It's very important That we clean out your dentist's hut You don't want any dirty Go away No Oh Fantastici Sono disseminate ovunque nei mondi mentali e raccogli da cento per avanzare di grande Oh 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 c'è una porta all'interno! un bel lavoro seguendo le ordini privati! andate in avanti! e prendo la guardia trasera! molti figmenti di immaginazione di Lobato quando vedete un figmento lo sorghi, soldi! posso parlare? allora non c'è una arma, Morrie allora pensavo che il grosso sangra beh... lo sorghi, lo sorghi! lo sorghi! lo sorghi! lo sorghi! lo sorghi, soldi! qu'è quella luce? uh oh lo sorghi! lo sorghi! lo sorghi! lo sorghi! lo sorghi! lo sorghi! no! no! lo sorghi! 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 soffri! lo sorghi! soffri! Scusi! un'altra fondamentale aspetta! Il combat system devo dire che è molto reattivo Zero input lag sugli attacchi Comunque è incredibile come tutti i giochi di Double Fine abbiano questa caratterizzazione dei personaggi geniale Non c'è un personaggio che sia fuori posto O che sia scontato O che sia scontato, o che sia banale Hanno tutti una personalità molto molto forte Che bellissima sta cosa Etichetta a bagaglio emotivo Assogio questa etichetta a bagaglio emotivo corrispondente per rimetterlo al suo posto Ho perso qualcosa altro Sì Vabbè che non lo scopriamo, però Ma infatti ma quante Se non riusciamo ti dava il pad definitivamente Cavù mnemonico Cavù mnemonico Alcuna mente cerca di proteggersi racchiudendo alcuni ricordi dentro un cavù Dopo le scassino Per riportare la luce delle esperienze represse al loro interno Corino Ah ma lo devo sfondare Che bello Che bello Ha tutto per farsi la partita a poker con qualcuno Ha tutto per farsi la partita a poker con qualcuno Qua non posso fare nulla Non c'è nient'altro Lì c'era il pulsante Quello La social vitalità è bassa Questa è che c'è un'emozione Questa è una cosa Bagaio e motivo Ognuno ha un bagaglio e motivo Razionalizzare Da razionalizzare Metti ordine nella mente Trovando la relative etichetta smarrita Ogni 5 collegate Sarega Vabbè uno l'abbiamo presa Ok Vedete cosa si può trovare andiamo in questo modo, andiamo dall'altra parte sembra come una sorta di sala di conferenza Rasputin, è tu? ho bisogno di... andiamo Sasha Rasputin, attenzione, è una... c'è la cappella è una cappella, è una cappella Lovato ha... qualcuno sta aiutando grazie, Rasputin per favore, torniamo chiaro di questo Sasha come l'Ovato ha spiegato l'obiettivo? non potrebbe essere fare questo in sua propria deve essere ottenuto da qualcuno ancora più... sinistro si prepara, Rasputin ma questa c'è una ricarica non potremmo lanciare te non potremmo lanciare te Sasha ma Sasha, muovi davvero controllo ah... ah... cerchiamo un po' fuori da qui rapidamente sì... non preoccuparti con loro, piccoli moocs tu vuoi andare per il gold hai bisogno di prendere i big boys ragazzi aiutami aiutami a prendere questo nemmeno, Frankie già lo so devi salireci sopra hai una parola adesso no devi arrampicarti sui muri e poi salireci sopra hey... toothberries drop that too it's not yours and I'm going to jump on ah... they got me too Frankie the move i cariati senza relax vacanze trappola deposito senza relax capo vacanze trappola c'è un'angoscia terribile questa cosa oh no non non tornare alla trap trap? coach? coach dove va? oh beh, questo è un buon signo cosa è? questo è un risultato se Lobato ha risultati allora magari c'è un modo che possiamo ancora arrivare lui vabbiamo fuori e troviamo Lobato anche di questi sono pieni Sasha i nostri risultati sono dangerous? oh sì estremamente ti occupi di quella perciò mentre ho trovato un esito no no la combo la combo guarda Buongiorno Rasputin, infatti non posso trovare un paio da qui Ehm, Sasha? Quanto tempo è stata qui? GOLDEN WHAT? C'era qualcuno dice GOLD? FRANKIE! C'è una possibilità per la rivencia! Oh, non questi ragazzi Io continuo a guardare Ehm, perché scappano sempre tutti? Ehm, perché scappano sempre tutti? Ecco Rasputin, tu vedi cosa puoi trovare a quella porta Io sto qui e provo a riparare la mia costruzione Oh, questo non è meglio Ras, sei tu? Vieni qui! Lily, vieni! Uh oh, slipper Hurry up, Ras Here I come Che c'è 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 Cosa 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 Un cattiveria? Ugly posters? Oh, looks like you found an even bigger room! I'm gonna catch... Listen, back in the rhombuses ruin... would I... I had a moment, am I right? We're not here to hurt you. We just wanna know who hired you to kidnap Truman Zanotto. Why can't you just let it go? Non è bene, non è bene, certo? No Fa uno schifo questo posto C'è l'altro bagaglio emotivo lì su C'è l'altro C'è l'altro tagliato? O me? Non importa Denguai, tutti abbiamo dubbi e ragazze Ma è troppo vicino per tornare ora, capisci? Ci che dobbiamo fare ora è finire la scuola Lily, credo che Lobato sta iniziando a dubbi Duh, sono proprio là ah ma nessuno fa niente a parte noi tutti che scappano tutti da fare ah ma va da fuoco anch'io nel mio stesso fuoco ma mi piace ragazzi non 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 allora vabbè diamogli fuori oh no you don't i think i just did mia yes darling nothing did you forget everything i taught you about levitation rasputin no your thoughts can lift you up if you focus better hurry before we hit the ground temo che questa fase durerà ancora un po' per cui non vorrei poi avviare altre cose che potrebbero essere complicato interrompere per cui ci fermiamo qua per adesso ragazzi fateci sapere cosa ne pensate se lo state provando ricordatevi che appunto troverete il gioco nel game pass ahimè non ci sarà una serie perché in questo periodo sarebbe un dramma però sicuramente ne riparleremo a breve con la recensione non avremmo già parlato a questo punto non lo so con le tempistiche devo ancora vedere come siamo messi per cui ragazzi miei per adesso è tutto da ras davide ed elisa e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao